Le luci delle candele illumineranno il centro di Caltanissetta venerdì 11 marzo in occasione della fiaccolata di pace organizzata dalla Diocesi e dal Comune Nisseno. Per favorire lo svolgimento della stessa è stata pubblicata un'apposita ordinanza, così da regolare la circolazione nella zona interessata durante l'evento. Viene ordinata la sospensione temporanea della circolazione veicolare in Piazza Garibaldi, in corso Vittorio Emanuele, nel tratto di strada compreso tra la via 20 Settembre e la Piazza Garibaldi, con esclusione degli autobus urbani. I veicoli provenienti da Viale Conte Testa Secca proseguiranno per via 20 Settembre una volta arrivati all'intersezione con la stessa, mentre quelli provenienti da Corso Umberto, lato Viale Regina Margherita, giunti all'intersezione con via Camillo Genovese, proseguiranno per quest'ultima. Di concerto con la Curia noi abbiamo organizzato per giorno 11 all'ora 19 in piazza una fiaccolata per manifestare la nostra solidarietà al popolo ucraino, che in questo momento sta soffrendo tantissimo, quindi siete invitati tutti quanti a partecipare alla fiaccolata che sarà in piazza. Anche la musica inonderà la città nei prossimi giorni grazie a Sicilia per la pace. Il 18 marzo il Teatro Regina Margherita di Caltanissette infatti ospiterà l'iniziativa di Lello Nalfino, il concerto solidale che coinvolgerà il pubblico durante le diverse tappe in giro per l'isola. Per non lasciare indietro niente, assolutamente, noi dobbiamo fare tutte le iniziative che sono importanti per raggiungere lo scopo e a proposito volevo ricordare che giorno 18 al Teatro Regina Margherita ci sarà un concerto con Lello Nalfino e altri cantanti famosi in tutta la Sicilia che verranno a casce zero, però quello che raccoglieremo lo daranno alla Croce Rossa per i contributi alle popolazioni.